E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. I due gol segnati il 9 aprile con la maglia del Crotone sgonfiarono definitivamente l'Inter di Pioli. Addio sogni di Champions se ancora qualcuno ne avesse avuti. Questa volta Diego Falcinelli indossa la maglia del Sassuolo e nella partita che anticipa il Natale di 33 ore buca ancora una volta la squadra con la quale ha vinto il campionato allievi. Un'altra polpetta avvelenata per un club che dopo il successo non l'aveva riconfermato. Diego è una prima punta che non teme il contatto con l'avversario. Uno di quelli che va in area di rigore senza paura ma che sa pure calciare da fuori area. Falcinelli, eroe senza paura, senza paura di buttarsi sulla palla e se serve anche senza paura di schiantarsi contro un palo come ha fatto sul cross di Politano. Politano porta palla, evita ancora l'avversario, parte la cross per il colpo di testa vincente di Diego Falcinelli. Sassuolo ha finito il numero 11.